Il film festival con un regista molto valente, Rikia Imaismith. Lui parla spesso d'amore e questo film si intitola The Art of Love, l'arte di amare. È veramente un'arte amare? I don't know if you can't. I've also challenged the film a few times, in this film. I can't decide a single thing, so I couldn't control them all. I don't think there's any easy answer. That's why I'm making a lot of movie about it. And then I think it's very important to say this is it. e questo è quello che stai facendo questo film. Perché sempre ci sono troppo difficile di amare? E' un'altra parte, perché vogliamo molto, chiamo molto, chiamo molto, magari l'unico amore è quello che hai l'idealismo, hai l'idealismo, l'idealismo, e poi la scuola tra la realtà e l'idealismo. E anche, magari, non possiamo farlo senza un relazionamento romantico, ma, allo stesso tempo, non possiamo vivere solo, quindi è così difficile, quindi non c'è una risposta clare. aspetta l'idealismo. Nessuno, quindi che te faccio l'idealismo, e poi, la relazionamento con altri e le l'idealismo in risposto? si stiamo vinc Andrew He. Si è difficile, e quindi, allora ho amore. Però non ho però, perché non si sono abbastanza bene. E dunque ho mancanso il modo che vuole questo sordo. ma non c'è nessuno del macio, ma, non ci spessi, perché non d'oggi interesse. Mi davano di panno, vorrei, Quando eravamo in una storia, ho avuto un'esperienza molto di un'esperienza. Quando eravamo in un'esperienza, l'unico non è più difficile di creare un'esperienza. Quando eravamo in una storia, ho avuto un'esperienza. E ora, in questo film, ho avuto un'esperienza di progettare. Ma prima di eravamo in una storia, è che non si può fare più romantica film. Thank you so much and all the best.